Ma io devo dire che in questo penso che ognuno di noi sia libero di decidere. Non mi piace l'arroganza, non mi piace la presunzione e la prepotenza di quelli che dicono noi sappiamo quello che si deve fare, come ci si dovrebbe comportare quando queste persone sono politici o religiosi o persone che fanno parte delle istituzioni e non sono persone vicine alla vittima in questione.